Salve a tutti ragazzi e buonasera! Quest'oggi parleremo del mondo di One Piece per quanto riguarda quelli che sono i personaggi che secondo me non devono essere dimenticati perché quando riappariranno potrebbero essere determinanti ai fini della trama. Mi spiego meglio. Cercherò di fare una top ten personale ovviamente quindi voi poi a fine video mi direte quelli che sono i vostri personaggi che più state aspettando che Oda ci ha già mostrato all'interno della narrazione ma che non ha più ripreso. Ora non citerò quelli che diciamo sono più prevedibili come Shanks, Barba Nera, Vegapunk cioè quei personaggi che l'intera community sta aspettando di rivedere. Non citerò neanche quelli che sono i personaggi che a mio avviso vedremo ben presto soprattutto per quanto riguarda la saga del Reverie e per quanto riguarda Waa. Quindi per esempio Kaido, X-Drake, Lo Kid, Lo Shogun, Gatto Vipera, Canistici eccetera sono personaggi che noi aspettiamo di rivedere ma appunto credo fermamente che rivedremo a Waa e ci è stato anche detto quindi non porrò l'attenzione su di loro ma cercherò appunto di presentare quelli che sono per me i dieci personaggi che non dovremmo come community dimenticarci e che purtroppo però a volte succede cioè in giro non vedo parlare molto di questi personaggi alcuni sì e altri no e quindi secondo me è giusto invece farlo. Allora la top ten non sarà in ordine cioè nel senso non ci sarà un ordine di importanza potremmo dire semplicemente sono quelli che ad occhio e a memore duomo diciamo mi sono venuti in mente quindi il primo che secondo me avrà un ruolo importante quando lo rivedremo è Orso Bartolomeu Orso Bartolomeu perché è sicuramente importante per quanto riguarda anche la storia di Vegapunk è un ex almeno ufficialmente un ex un ex rivoluzionario e poi anche per la situazione della difesa della Sannia e le Savaudi per i due anni precedenti al Pre-Time Skip quindi Orso Bartolomeu ha molto da dire le uniche volte in cui l'abbiamo visto sono state a Thriller Bark per quanto riguarda la situazione sia di Gecomoria da porre fine quindi era stato mandato al governo dal governo sia per quanto riguarda poi la storia con Rororono a Zoro e poi a Le Savaudi perché fu lui responsabile della divisione della Churma lo vedremo, lo abbiamo visto anche la prima volta con Do Flamingo durante quello che fu la riunione a Marijoa con Sengoku la riunione in cui fu poi presentata la candidatura da parte della Fit per quanto riguarda Barba Nera e quindi Orso Bartolomeu secondo me avrà un ruolo fondamentale sia appunto per la questione rivoluzionari che anche loro avranno il loro momento di gloria in futuro sia per quanto riguarda la questione Vegapunk anche per esempio per quanto riguarda i Pix Zero per quanto riguarda Kizaru eccetera quindi Orso Bartolomeu è un personaggio da non sottovalutare il secondo personaggio che invece secondo me deve essere un po' più ricordato è Fujitora ricordiamo che Fujitora è colui a cui sono state interdette le porte della marina aveva un ruolo, anzi aveva un compito quello di catturare Rufi a Dressorosa ha deciso di lasciare al destino o al caso quindi al lancio del dado la decisione se catturarlo o meno e per tale motivo è stata accentuata ancora di più la frattura all'interno stesso della marina con Akainu anche per quanto riguarda la questione di Linkino e quindi ricordiamo Fujitora è una mina vagante è colui che adesso nel nuovo mondo vaga nei mari alla ricerca di Rufi perché il suo compito è comunque quello di arrestarlo quindi Fujitora io sono quasi sicuro anzi si può dire sicuro che non lo rivedremo a Reverie al momento soprattutto perché il Reverie è una questione più rettamente politica quindi ci sta la presenza di Akainu in quanto rappresentante della forza militare del governo mondiale ma non credo ci saranno gli ammiragli da momenti in cui questi sono comunque dei combattenti non hanno un ruolo politico ma anche se ci dovessero essere ricordiamo appunto che Fujitora almeno ufficialmente è in possibilità per entrare nelle porte del governo mondiale e della marina quindi in ogni base militare Fujitora inoltre avrà un ruolo fondamentale sicuramente verso la fine per quanto riguarda appunto la spaccatura della marina e quindi il filone prettamente Fujitora Kobi e Aokiji e il filone poi Akainu quindi la parte della marina più dura della giustizia assoluta eccetera eccetera il terzo personaggio che invece voglio presentare in questa top 10 è Gekomoria Gekomoria secondo me non è da sottovalutare allora è comunque un ex membro della frotta Re 7 e ha combattuto contro Kaido vero? ha perso sia contro Rufi che contro Kaido però Gekomoria ha un potere da non sottovalutare inoltre il fatto stesso che sia stato l'unico ad essere fatto fuori dalla flotta Re 7 e poi o da stesso ho tenuto a dirci che non era morto mi lascia un po' riflettere perché Gekomoria cioè anche la motivazione per il quale sia stato fatto fuori mi sembra un po' strana cioè il fatto che lui fosse troppo debole ma se così fosse anche Bucky Clown è troppo debole per la media dei combattenti della flotta Re 7 anche la stessa Boa Hancock non spicca per potenza quindi secondo me c'è qualcosa sotto c'è qualcosa sotto e non è da sottovalutare perché Gekomoria potrebbe avere un ruolo chiave se non a Waa perché non so se lo rivedremo a Waa ma comunque anche per la questione Kaido Weeble eccetera quindi diciamo se Oda ha voluto rimarcare il fatto che non è morto aspettiamoci di rivederlo e aspettiamoci di rivederlo anche se non presto comunque con un ruolo abbastanza chiave il quarto personaggio invece è ovviamente Rob Lucci Rob Lucci sia per quanto riguarda la questione combattiva con Rufy sia per quanto riguarda la sua ricandidatura nella CP0 quindi un ruolo fondamentale l'intelligence per eccellenza del governo mondiale sia per quanto riguarda anche la sua ricomparsa adressorosa la quale sicuramente non è casuale e quindi anche per la questione presentata anche in ultimo film con i rivoluzionari il suo semicombattimento con Sabo insomma Rob Lucci non è da da dimenticare per questi motivi ma sicuramente anche per altri anche perché per seguire anche un po' il fandom è stato tra i nemici per Di Rufy che più ha saputo essere carismatico col pubblico quindi ci sta la sua ricandidatura altro personaggio della top 10 poi è Rayleigh Silver Rayleigh detto il re oscuro Silver Rayleigh avrà un ruolo fondamentale sicuramente nella parte finale di One Piece quindi ci sta che adesso non lo rivediamo perché ripresentarlo adesso stonerebbe un po' perché Silver Rayleigh è stato colui che ha allenato Rufy e quindi è come se Rufy poi dovesse dimostrare i frutti di questo allenamento nella parte finale mostrarli adesso se lui ha ancora molto da dare andremo un po' contro anche il concetto classico di allievo e maestro e poi perché Silver Rayleigh è legato a Shanks è legato al Rafter al One Piece e al Roger ai 100 anni di vuoto probabilmente di buio probabilmente quindi ci sta che questa attesa diciamo di rivederlo se non in qualche flashback perché è giusto che lui venga ripresentato nella parte finale del manga altro personaggio che secondo me potremmo rivedere nella parte finale del manga perché ha dato molto ma non tutto è ovviamente Do Chiodo Do Flamingo Do Flamingo volente o non lente ha le mani in pasta con con quiunque con la marina con il governo con i pirati con i rivoluzionari con gli imperatori con altri pirati con la malavita con il sottobosco criminale quindi Do Flamingo con i nobili quindi Do Flamingo avrà un ruolo chiave il fatto che sia stato lui a fare diciamo una panoramica generale di quelli che sono le situazioni geopolitiche che stanno avvenendo nel mondo di One Piece secondo me sta a significare il fatto che comunque volente o non lente verrà ripresentato anche il fatto che lui sappia cosa sia il segreto di Mary Joa pone le basi per il personaggio per avere ancora un ruolo se non chiave comunque di rilievo all'interno della macro storia di One Piece quindi aspettiamoci di rivedere Do Flamingo magari non è escluso che venga salvato da qualcuno ai Rimpel Down e quindi diciamo Do Flamingo sì sarà un personaggio che rivedremo poco ma sicuro con un ruolo sicuramente non sottostimato e parlando di Rimpel Down non posso non citare un altro personaggio della Top Ten cioè Magellan Magellan per me è stato un personaggio forte sicuramente è stato anche un personaggio che rappresenta un po' se vogliamo quella che è la parte della marina più rigida rispettosa delle regole era l'ex cancelliere comunque della prigione di massima sicurezza del governo mondiale ha un potere da non sottovalutare e secondo me in un'ipotetica battaglia finale lo potremmo rivedere non più come appunto capo cancelliere ma come magari capo di un'armata no? capo di un'armata del governo mondiale della marina cioè potrebbe avere comunque un ruolo anche istituzionale all'interno del governo e della marina stessa e anche il fatto che sia stato detto che non è morto ecco quando Oda ci dice che alcuni personaggi di cui noi non sappiamo gli eti ma di cui in teoria non dovrebbero neanche fregarcene più di tanto ma Oda vuole sottolinearcelo secondo me sta appunto a significare che li rivedremo allora se già lui ci ripresenta personaggi di cui noi diciamo quasi ce ne dimentichiamo perché ai fini della trama non sono fondamentali a maggior ragione se lui stesso pone l'accento sul fatto che potremmo rivederli li rivedremo 100-100 con ruoli magari diversi e ci può stare con poteri diversi con un ampliamento dei poteri dei svegli eccetera eccetera ma ci sta ci sta e quindi anche Magella ne ho la metto in questo top 10 per quanto riguarda gli ultimi tre posti prima di tutto i 5 assi di saggezza i 5 assi di saggezza anche per quanto riguarda il reverie avranno un ruolo fondamentale ogni volta che l'abbiamo visti è sempre stato per poco hanno avuto anche la decisione ultima per quanto riguarda la distruzione di O'Hara sanno sicuramente la storia la vera storia anche dell'antico regno e magari del One Piece e del segreto di Marigioa hanno un po' in mano il potere informativo di tutto il mondo di One Piece e io non escluderei e mi piacerebbe onestamente la fanboy anche un potere combattivo un potere combattivo ci potrebbe stare perché lasciare diciamo la difesa armata del governo mondiale a soli tre ammiragli e qualche personaggio sporadico veramente forte contro quattro imperatori armata rivoluzionaria e milioni di pirati ci ci può stare perché One Piece non è la forza la principale componente però onestamente appunto da fanboy mi piacerebbe vedere anche questi assi di giustizia di saggizia insomma rispolverare un po' diciamo quelle che sono le arti combattive e dimostrarci di che pazza sono fatti un altro personaggio poi della top ten è Sir Crocodile che se non a livello combattivo almeno io pongo al pari livelli di Doflamingo per quanto riguarda il potere informativo e per quanto riguarda il prestigio strategico sia nel vecchio che nel nuovo mondo Sir Crocodile non fa mai le cose a caso il fatto che fosse imprigionato nella sesta nel stesso livello della prigione di Impel Down ce la dice lunga il fatto che fosse un ex flottaro ce la dice lunga il fatto che abbia combattuto a Marineford contro un po' tutti ma soprattutto contro Akainu ce la dice lunga e soprattutto ripeto anche la sua ripresentazione nel penultimo capitolo nel nuovo mondo che sa far che tende a sottolineare non solo la ricomparsa futura del personaggio ma anche l'importanza che questo personaggio avrà nella macro storia c'è importanza del personaggio che io rivedo anche nell'ultimo della top ten ovvero sia Bonnie cioè quel Bonnie per me potrebbe essere non voglio esagerare ma potrebbe essere il personaggio più misterioso all'interno del mondo di One Piece già il fatto che il suo potere la porti a modificare la sua età quindi noi non sappiamo la sua vera identità pone un grande allone di mistero mistero che poi viene ampliato anche dalla sua somiglianza con Big Mom quindi potrebbe essere ancora una delle tante figlie di Big Mom quindi essere comunque figli di un'imperatrice la questione di Marineford il perché lei abbia cercato Barba Nera che rapporti avesse con Ace e il perché una volta catturata la Barba Nera e una volta poi presa da Akainu in persona noi la rivediamo libera qual è il suo ruolo all'interno di One Piece qual è la sua vera capacità perché è stata l'unica piratessa ad essere libera una volta che un imperatore e un ammiraglio l'hanno catturata ecco queste sono le domande che pongono il personaggio di Samuel Bonnie per me almeno personalmente su un gradino sopraelevato rispetto anche a questi nove che vi ho presentato prima perché secondo me potrebbe veramente una volta che il personaggio verrà approfondito dare molto alla storia ecco ora ditemi invece voi qual è la vostra top ten personale io prima di finire il video voglio fare un'unica manzione d'onore potremmo dire perché tutti i personaggi di cui ho parlato sono i personaggi che Oda ci ha già mostrato l'unico personaggio di cui veramente non sappiamo molto ed è un personaggio misterioso la sua comparsa potrebbe dare qualcosa alla trama ma sicuramente come la morte è il terzo ammiraglio di cui noi veramente non sappiamo nulla sappiamo solo il suo nome Toro Verde è il nome in giapponese che adesso purtroppo non ricordo ma più di questo non sappiamo veramente nulla ed è l'unico personaggio che Oda vuole ancora nasconderci per il motivo detto prima non so se lo rivedremo a Riverie cioè se noi lo vedremo a Riverie perché è una questione più politica appunto ma quando verrà ripresentato sicuramente avrà molto da dire e avrà anche un potere devastante per essere un ammiraglio devi comunque sovraelevarti a livello di potenza poco ma sicuro quindi mansione d'onore fatta top 10 fatta personaggi troppo potremmo dire scontati o comunque di cui la community ne parla molto l'abbiamo detto adesso invece tocca a voi ditemi voi nei commenti qual è la vostra top 10 di quelli che sono i personaggi che Oda ci ha già mostrato ma di cui non sappiamo ancora molto o comunque di cui aspettiamo il ritorno personaggi su cui la community non ci concentra molto iscrivetevi al canale iscrivetevi alla pagina facebook del canale passate anche per il canale di non ti dico che parla sempre di one piece molto valido passate anche per il canale di nunzino 91 il quale il cui tema principale sono le ricette ed è molto bravo noi ci vediamo al prossimo video fate bravi studiati siete umani viva one piece e fatemi sapere la vostra ciao ragazzi